Now I'm on the outside Dato che il loro rank è abbastanza basso Sono sul nova qualcosa Lo scontro sarà un 2 contro 1 Ovviamente vi ricordo di spolliciare qua sotto Se volete vedere altri episodi di questa serie E vi ricordo anche di commentare Se mi volete sfidare La mappa che stiamo facendo oggi è la aim cards La vedete qui in alto a sinistra Ovviamente ragazzi prima di iniziare la partita Vi ricordo di passare al loro canale E trovate qui sotto in descrizione mi raccomando Iscrivetevi e adesso ci becchiamo in partitozza Ok ragazzi è iniziata la partita Ovviamente potremmo usare soltanto gli AK Anche se sfanno anche gli M4 Per fare uno scontro un pochino più alla pari L'ho già vista la prima Ovvero Alex Vediamo dove è Carly Carly Aspetta che non lo vedo io Oh mio dio L'ho molto affatto Ovviamente ragazzi è messo in modalità competitive Ovvero dovremmo vincere 16 round Per poter decretare il vincitore E adesso gli ho fatto fare il primo round così tanto per Tanto per Sì sì Adesso adesso vinciamo al culo Vincete al culo No vaffanculo lo sapevo Ovviamente non ci può rascare ragazzi Non si può rascare Non si può rascare Non si può rascare Ma non si può rascare Ma noi faremo lo stesso Sì sì Ho visto Alex Alex Esci da lì No Ehi sì Per l'interno questa cassa non si può rascare Non si può rascare Quindi anche volendo non si può rascare Non si può rascare Lascia stare Fa niente Lascia stare Tranquilla Tranquilla Ma dillo che sono un abba Adesso ti penso io Ti penso io tranquilla Non ti può rascare Sicuro? Sì sicuro Non ti può rascare Non ti può rascare? Io lo faccio lo stesso Vuoi vedere? No Carly Non lo fare Sono spoiler Io ti fai per te Io non c'ho paura No C'avevo paura Ma da dove? Ma poi Guarda come camper Camper Allora ragazzi Carly mi dice che camper Su css goal Camper non esiste Guarda guarda Che esiste Guarda che faccia Guarda che faccia Dai ma io faccio Che gare a sto gioco Non è però ragazzi Ieri praticamente mi ha voluto sfidare Ha vinto 16 a 3 Però io ero super concentrato Adesso questa è la mezza partita Che faccio E quindi Adesso Sono scatto Alex ha perso un po' di No Non mi colpisco Ma io non lo vedo manco A questo Do cazzo so È a destra A destra È a destra Ovviamente mentre registro Ci sono i cani che abbagliano Come dei pazzi Quella chi era? Ah no Non sono io Gli ho sforato di merda No 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 ragazzi Ho sforato malissimo Quando io to Alex meno 68 in 2 Non ci muore Mai Mai We must to win Mi ero dimenticato Che ho abbassato Dove cazzo Ah là dietro Alla dietro Alla dietro Alla dietro Alla dietro Tutte le due La siete spawnate Una accanto all'altra Non lo so Ok So che Carrie È hittata Ma che Com'è finita lì? Manco Goku No no Maronna Eh Guarda che stronzo È uno stronzo È uno stronzo Perché non è uno stronzo? È uno stronzo E basta Vabbè ragazzi Tre al due Già hanno vinto Più di quanto dovevano vincere Ma vedi Dai Boh Camperia schifo Guardalo Guardalo Stavo perdendo la Ma no no Adesso 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 È impossibile Che mappa di merda Si chiama aim map Non me ne frega un cazzo Di come si chiama Ma dai Come cavolo fai? No no Non è giusto Non ho parole Ragazzi Adesso è una sfida Non è che ti devi dire scarse Loro sono nuova Questo è per farvi vedere Perché molti nuova Mi sfidano Se già in due Non riescono a battere Mi significa Che è impossibile Da solo vincere Ma sono livello 1 Io No vabbè Dai dark 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 So per scadrare Ma come fa? Ma io ero Un colpa a caso Edshot Vabbè Alex senti ma Sì Questa Una collezione Allora facciamo Capito? Ok ok Sei pronta? Guarda guarda Sono pronta No non è giù Ma io Io ci ho provato Wall luck signori Wall luck signori Wall luck E' impossibile Non fa sapere dove sono Alex Dove sei? Ho vista Ho vista Ma che schia Lascia stare Lascia stare Un camperino Ci vado Ci vado Ci provo Ci provo Grandissimo 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 Sei il leader Della nostra squadra Basta Sei il leader Della nostra squadra Bravissimo Siamo in due Ma lì Stai già dove sono Alex È una cosa brutta Guardalo E guardalo Ma che Sparo L'ho hittato Secondo te Non lo so Non lo so Ma dove L'hai visto Dove mi ha compito Non lo so Non lo so Non lo so come fa Guarda il flame Guarda Guarda Avete le armi o no Sì 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 Ma No No Questo non vale No Dai Ok Adesso manca Carrie Che è pericoloso Ragazzi Perché Lei ci gioca parecchio Rispetto ad Alex ACS Vero Dov'è Ah Jesus Christ Oh my Fucking God Ok Stato è abbastanza carino Ragazzi Non è vero Cioè Bellissima Dove Che sta camperando Ma stai zitto Che sei il primo Che campera Poi dici No Su CS Non esiste I camperini Infatti Non esistono Ma adesso Tu sei ferma Alex Dai suggerimenti Dai su Allora Secondo me Dovresti proprio Rascare No dai No prova Madonna Rimani lì Rimani lì Rimango qui Per un minuto Ancora un minuto Dai Sento ragazzi Rimango qua Così il tempo Finisce Panteria dello spazio CS Cos'è Il mio clan Lo faccio Lo faccio Lo faccio o mi vento Dai Anna esci Ah no Aspetta Ma è rimasto Oddio L'ho dimenticato No no Io mi nascondo Mi sciotta Mi sciotta Carmen È là dietro Penso Non sto facendo niente Giuro Ma devi uscire Non si può camperare così tanto Ma non stai camperando Dai È concentrata Ti sta mirando Ma qui ti spara Ma non è vero Ragazzi Aspetta l'ultimo secondo No no Così non finisci più Sto a partire È paura che hai dietro di me Mi vuole coltellare Non lo so Girati Girati sono dietro di te Non è vero Adesso 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 Dai Non puoi camperare Vinco io penso Parità Parità Vai scherzando Oh Carmen No no Non si può fare così Ma chi lo dai round? Non lo dà nessuno Non abbiamo fatto niente Che falle E vabbè ma io non posso uscire Che subito mi killi Non esiste Non sapevo dove eri Quindi vuoi fare tutta la partita così Adesso Adesso Ma secondo te è giusto Sì secondo me è giusto No non è questo non è giusto Secondo me no perché ho fatto 42 Questo non è giusto Però è che Alex esce sempre allo stesso posto Shiftata Quindi Ok ok adesso Adesso canto strategia Guarda Guarda No 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 Ma vedi che non lo vedo Madonna Vedi che non lo vedo Non lo vedo Mi dà fastidio Destra Esatto Grande Anna Grazie Non rimango ferma anche io Non va bene sta cosa Perché devo farmi battere da un macchio Forse non hai capito niente Dove cazzo sta Io salto Adesso non mi piglio Prova una bolle Ma come fa? Chiedimi Madonna io ho fatto 76 76 ragazzi 76 C'è l'andata vicino adesso Carrie Madonna cari un cazzo Giuro che Te la faccio pagare questa d'arco Perché Ti accendio in diretta Ti accendio in diretta Guarda guarda Ma non è possibile Non è possibile Quanto ora mi ammazza Alex Già lo so Sta concentrato ad ammazzare Alex Deve riempire il cazzo a me Ma come è la bolla Ma se lei si nasconde Io devo ammazzare quella che saltella Eccola Non è neanche il suo spazio S**t Madonna No ragazzi Allora ci dobbiamo Pazzi tanto già lo so che ci ringgicheranno Tranquillo Non è che No facciamo così Fa tutto lui fa Ma chi sta sparando? Eh guardate sto lato qua Tu brava Brava Ok Grazie Alex Mi ha colpito Mi ha colpito Mi ha colpito Giro Cinque Ti ha tolto Non è possibile Non è possibile Già sa dove sono Oh no So io ho un piano Oh no Io lo reporto per uvolacca questo Dai no 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 Ero il cazzo Giuro Sto morendo Sto morendo No raga Ma lo Vabbè dai Io intanto ti ho scritto il piano Poi fammi sapere cosa ne pensi Ah eccola perché la ferma Alex Vabbiamo perso Contro un maschio Ancora c'è lo switch Non avete perso Dai tranquilla Possiamo farci Oddio Divertente Voglio andare vincita No non è divertente Se siete nuove e volete sfidarmi Non fatelo Se no finisce così Ma non so Io sono livello 1 Smetti di dire che sono nuova Sono livello 1 Ma quello non è Non posso neanche fare le ranked Eh lo so Eh guarda La mappa è tia Adesso mi fanno il culo Guardale guardale Eh vabbè Oh grande Io ho fatto Ho fatto almeno 60 sec Sì sì l'ho fatto L'ho fatto Pallo pallo Un tappo Un tappo One tappo No un tappo Ti piglio vorrebbe il culo Io Non lo farei mai Oh eh Eh però se mi focusate tutti e due Eh beh scusa cosa pretendi Eh beh giusto Questo piano funziona Questo piano funziona Grandissimo Possiamo farcela Grandissimo Possiamo recuperare Le donne vincono sempre Ecco l'ho visto È a sinistra È a sinistra Dove 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 ombra Dove 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 ombra Attaccalo 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 Grazie Se ne hai messo in fila Cosa Cosa Ho messo in un casino Ma che cosa No vabbè Vabbè Oddio No Ok Io mi rifiuto di giocare No 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 È morto No Alex No no Alex Grandissimo Grandissimo Alex Basta Voglio una statua Per questa donna Subito ora Chiamate Obama 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 Scusa vorrei un paio di meglio Spagli di medaglie Sì però Dark Se mi attacchi mentre parlo Cioè non vale No 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 Mica che t'ho preso Non t'ho preso Sì mi hai messo preso Come Madonna che fastidio sto ragazzo Adesso se volete potete usare l'M4 Discrivetevi subito now Adesso l'ultimo round Provatevi con l'M4 Ma io ti ammazzo Vabbè ragazzi se io uso l'M4 è peggio Quindi per questo ho detto di usare la K No no Un Alex Scusa che non mi sto arrabbiando No Scusa che non mi sto arrabbiando Com'è senza K Com'è senza K Com'è 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 Scusa che non mi sto arrabbiando No 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 All'avanti All'avanti Ho visto tutte e due forse Forse No dai raga Non esiste che deve Deve ararci così Dai quest'uomo Alex Esci da lì Cari non so manco dove sia No sono tutti quelli No Basta Batti 5 col colpello Eh vabbè 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 No ragazzi Non esiste Ma dai Ma guarda Lo vedi come fanno Mi ha spanchillato No no Eh Dovrebbe essere a destra Sì lo so Eh vabbò Che cazzo faccio adesso Faccio una ballata Oh mio dio La mia Ma che Mamma mia Era a sinistra Che fastidio Mamma mia Che fastidio Disiscrivetevi subito Da questo cazzo di canale Ma Non aspetta Aspetta Io devo prendere Il mio cusino Poco giro No Oh grande Come godo Dio santissimo Che brutte persone Ragazzi Vai via Match point Ma che palle È sempre match point Finchè non faccio i 16 Ma lo so No 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 Dove so Dove sei Ma dove sei Come fai Io non ti vedo Non lo so Non so come faccia Nonco io lo so come faccia Però vi vedete Ma guardalo No ragazzi Non posso pareggiare Ok l'ho visto L'ho visto Io l'ho visto Ma il punto è che io gli sparo Ma non gli faccio niente Ha vinta Prego Alex No Alex non dirmelo Che mi sta battendo Non dirmelo Non è giusto Ok ragazzoli Questo video finisce qui Ovviamente vi ricordo Di passare dal loro canale Che troverete qui sotto In descrizione E ci becchiamo alle 17 Con un nuovo video Su minecraft No ragazzi Lasciate Il dance Sì